Vado a vedere Ale, Popatrol, si è il nostro Popatrol, e come si chiama? Papio, papio dai, che se no Ale non è felice, papio, 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 ok, vediamo come si apre Ok, vedi, è la pinzetta, te la metto? È la pinzetta del tuo Popatrol, me lo puoi far partire se non la metti, lo sai? La mettiamo? La metto io? Ecco, forse ci riesce, eccolo il Popatrol, e guardate, fai vedere il nostro Popatrol? E non a me, a questo, papà, fallo vedere, e fallo vedere il trattelare E no, voglio vedere questo altro, ok, Ale ci puoi vedere come si giochi? No